Massimo impegno contro la droga nelle scuole. Il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocato dal prefetto di Lecco Liliana Baccari, si è riunito per un esame condiviso, in un'ottica di sicurezza partecipata, delle attività da porre in essere in materia di prevenzione e lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici, anche alla luce della recente direttiva diramata dal Ministero dell'Interno, in vista dell'imminente avvio del nuovo anno scolastico. In apertura dell'incontro, qui hanno partecipato oltre ai vertici provinciali delle Forze dell'Ordine i dirigenti degli istituti scolastici della provincia, il comandante della Polizia Locale di Lecco e la Polizia Provinciale. Il prefetto, spiega in una nota il capo di gabinetto, Marcella Nicoletti, ha rimarcato la gravità del fenomeno dello spaccio, che produce effetti gravemente deleteri per la salute, comportando altresì negative implicazioni sul piano della condotta individuale per l'inevitabile scadimento dei principi valoriali. Di qui la necessità inderogabile di un impegno condiviso ai vari livelli, in chiave sia preventiva che repressiva. Il prefetto ha invitato tutti ad individuare e segnalare le aree nonché le singole realtà scolastiche più a rischio, così da poter calendarizzare servizi mirati la parte delle Forze di Polizia. Fermare stando l'importanza dei programmati servizi di controllo del territorio, Liliana Baccari ha segnalato l'urgenza di porre in essere attività che non si esauriscano nel mero controllo, ma che dia novità ad un ripensamento delle strategie in grado di influire sulle determinanti ambientali, sociali ed individuali che portano all'uso delle sostanze stupefacenti.